Bene, cari amici, buona giornata, inizia il campionato con tante novità in casa rosso-blu. Albert Gudmundson se n'è andato, come era sua volontà a Firenze, ed è stato ceduto alla fine per la ragguardevole somma di 28 milioni di euro, una cifra irrinunciabile per un giocatore che ha già compiuto 27 anni e che soprattutto aveva battuto i piedi come un bambino per andare nel capoluogo toscano. Anche Reteghi si è accasato a Bergamo, all'Atalanta, dove è andato a fare il rincalzo di Scammacca infortunato. Insomma, con tutto rispetto per la Fiorentina e l'Atalanta, i due ex rosso-blu non è che siano approdati al Real Madrid o al Paris Saint-Germain. Ma contenti loro, contenti tutti. Il Genoa ha provato a ribattere subito contattando Fabio Silva, ma raggiunto l'accordo con il giocatore si è trovato un muro davanti alla società inglese proiettaria dell'attaccante. E quindi, con il campionato ormai alle porte, si inizia sabato 17 alle 18.30 con i campioni d'Italia dell'Inter e non è poco, il grifone è corso ai ripari tesserando Andrea Pinamonti, che rosso-blu giocò già cinque anni fa, giovanissimo, non lasciando un particolare ricordo, anche se giocò, ricordiamolo, a singhiozzo. L'attaccante è arrivato venerdì mattina a Genova e si è recato alla Casa della Salute di Multedo per svolgere le rituali visite mediche e subito dopo ha firmato il contratto che lo lega al Genoa e si è messo immediatamente a disposizione di mister Gilardino, che ricordiamolo l'ha fortemente voluto. Potrebbe già scendere in campo contro l'Inter. Sentiamo tanti tifosi mugugnare per questo angaggio. Magari lo fanno perché ricordano il Pinamonti di qualche anno fa. Ed allora ricordiamo che Pinamonti, la scorsa stagione, giocando con il Sassuolo, squadra non eccelsa, più debole del grifone, ha messo a segno ben 12 gol, di cui due su calci di rigore. Ragioniamo, il tanto amato Osanato Gudmundsson, che ai tifosi pur di andare a Firenze ha fatto, diciamolo chiaramente una pernacchia, ripetiamo a Firenze e non a Madrid, la scorsa stagione di gol ne ha fatti 14, ma con ben 5 rigori realizzati. A casa nostra 2 più 2 fa 4, togliamo i 5 rigori a Gudmundsson ed i gol segnati restano 9, uno o meno di Pinamonti. Il Pinamonti di oggi è ben diverso, deciso, maturo, se avrà il sostegno fondamentale dei tifosi genuani, potrebbe essere veramente decisivo per la crescita del Genoa. Senza dimenticare che il mercato calciatori comunque termina al 31 agosto, quindi ancora 13 giorni per rinforzare ulteriormente la squadra. Certo, la prima di campionato con l'Inter è tremenda. Ricordiamo proprio lo scorso anno, con la viola, la fiorentina, la debacle interna alla prima giornata per 4 a 1, con tutti a risperarsi a pronosticare retrocessione certa, per poi chiudere magnificamente all'undicesimo posto in classifica. La società genuana ha parlato poco come sua consuetudine, quindi sui social tutti sono diventati esperti in mercato, pronosticando e giudicando. Tutti hanno un amico addentro alle cose rosso-blu che gli ha detto certe cose. Calma e sangue freddo, il Genoa può crescere con tutte le sue componenti, tifo compreso. I 777 sono saldamente al comando del Genoa, nonostante i soliti amici che sanno tutto e dicono il contrario. E dentro il 31 agosto daranno nuovi nesti a Cilardino. E vi dico un'ultima cosa, il discorso Fabio Silva non è definitivamente chiuso. Un caro saluto da Franco Ricciardi e dimostriamo che non aveva ragione il grande Bagnoli. Una buona giornata. Grazie a tutti.